Buongiorno, sono Pierpaolo Muccelli, co-fondatore della TechItalia, la community di 1500 members italiani o società italiane che operano nel settore tecnologico a Londra. Abbiamo organizzato già 36 meet-up e presentato più di 70 realtà innovative e adesso abbiamo una bellissima iniziativa il TechItalia Lab che lancia il mese di gennaio e offriremo a una decina di società e start-ups da selezionare, spazio co-working in centro a Londra, connessione con 50 mentors, specialisti nel settore, delle iniziative di networking e inoltre accesso a VCs e Angel Investors. Vi aspettiamo, ciao!